Oggi parliamo di Algorand, una blockchain efficiente ed estremamente scalabile con origini italiane, nate dalla mente del professor Silvio Micali. Questa blockchain è sempre passata sotto i radar perché fino ad adesso non ha avuto un ecosistema DeFi, un ecosistema NFT e dApp molto conosciute, ma le cose potrebbero cambiare in quanto recentemente è stato annunciato un fondo da 300 milioni di dollari finalizzato proprio ad accrescere questo ecosistema proprio su Algorand. Quindi mi viene da chiedermi quale momento migliore per andare a scoprire e conoscere a fondo questa blockchain? Buonasera amici criptoinvestitori e ben ritrovati a tutti quanti. Continua la nostra serie dedicata alla scoperta e allo studio dei vari layer 1 e layer 2, ovvero le varie chain sulle quali girano smart contract, applicazioni, DeFi e quant'altro. Vi ho promesso che le studieremo tutte e così faremo. Da un sondaggio che ho fatto proprio coinvolgendovi è emerso che Algorand vi interessava particolarmente, allora ho deciso di dargli priorità. Oggi andiamo a vedere come funziona e quali sono le sue particolarità, andiamo a vedere qual è la sua tokenomics, andiamo a vedere cosa la distingue dalle altre chain, quale può essere il suo futuro, studiando appunto gli sviluppi che ci saranno, con focus sull'ecosistema DeFi che potrebbe nascere già alla fine di quest'anno, ma soprattutto all'inizio del 2021. Ci sarà un sacco di materiale, quindi ho le mie solite slide a supporto. Tenetevi forte, tra l'altro le slide le potete scaricare come sempre gratuitamente, link in descrizione. Tenetevi forte e andiamo a tuffarci alla scoperta di Algorand. Questo sottotitolo è volutamente provocatorio, ovvero una chain pronta a far parlare di sé. Me lo chiedo proprio perché, come vi accennavo poco fa nell'intro, Algorand è sempre stata un po' poco considerata. Vuoi perché non è esploso il mondo delle DAP come è accaduto su Ethereum e simili? Vuoi perché è una chain comunque complicata sulla quale sviluppare? Come vedremo ha un suo linguaggio di programmazione specifico e non è per tutti, quindi è molto selettiva. Però le cose, ripeto, potrebbero cambiare perché è stato annunciato un grosso fondo per lo sviluppo DeFi, cambierà il linguaggio di programmazione andando verso una direzione più inclusiva e più orientata alla Mace Adoption, quindi è il momento di capire bene come funziona e se vale la pena considerarla. Come sempre, questo video, come i miei altri video, è orientato all'educational, alla ricerca, alla scoperta, al capire e non vuole essere un consiglio finanziario. Faccio anche un disclaimer, io non holdo al momento nessun algo e non ho in programma di farlo nel prossimo futuro. Tutto sommato, questa chain mi ha incuriosito parecchio e adesso vi spiego anche il perché. Iniziamo dal che cos'è e come funziona Algorand. Algorand è una blockchain ideata, come vi dicevo, dal professor Silvio Micali, un orgoglio italiano perché è veramente una mente, professore dell'MIT nonché premio Turing, che è un po' l'equivalente nel mondo dell'informatica del Nobel. La chain ha una particolarità nel suo algoritmo di consenso, che è un algoritmo di consenso brevettato e si chiama Pure Proof of Stake. È un Proof of Stake che, a differenza degli altri, punta ad essere inclusivo verso tutti i partecipanti. Quindi ogni singolo holder della coin algo che la detiene sul suo wallet e la mette appunto in staking può validare blocchi. Non è necessaria una soglia minima, quindi non è necessario accentrare il numero, cioè il possesso degli algo in pochi validatori, non c'è una logica di delegation, ma ogni singolo holder, ripeto, può essere un validatore. Viene selezionato in maniera randomica, con un algoritmo specifico sul quale non vado nel dettaglio perché diventa poi una cosa troppo tecnica e troppo complicata, ma in sostanza con un peso probabilistico che è proporzionale al numero di algo detenuti, ogni holder che mette in staking il suo algo può essere randomicamente selezionato ad ogni turno, ad ogni giro di validazione di un blocco che richiede all'incirca poco meno di 5 secondi, può venire appunto sorteggiato come prossimo validatore. Questo sorteggio randomico e questo staking inclusivo hanno due vantaggi. In primis la decentralizzazione, perché di fatto non si tende ad accentrare il potere di validazione dei blocchi e delle transazioni in mano a pochi, ma è esteso potenzialmente a tutto il network. Inoltre il sorteggio randomico garantisce una maggior sicurezza al network, poiché un potenziale attaccante o comunque un attore malevolo non può sapere in maniera deterministica come, cioè chi sarà il prossimo validatore di un blocco. Quindi diventa più complesso pianificare e pensare degli attacchi a danno della chain. La scalabilità è garantita innanzitutto dal fatto che, come vi dicevo, questo Pure Proof of Stake è molto veloce, la validazione è molto rapida e il tempo di blocco per l'appunto è meno di 5 secondi. Inoltre c'è un'architettura dual layer che in sostanza prevede un layer 1 e un layer 2 nativi della chain Algorand. Il layer 1 prevede l'esecuzione di operazioni che ho chiamato di base, che sono quelle più importanti per portare avanti l'attività on-chain e sono anche quelle meno onerose da un punto di vista proprio computazionale e di carico del network. E queste vengono eseguite appunto direttamente on-chain. Sul layer 2, al contrario, vengono eseguite le operazioni più onerose. Si può anche pensare all'architettura, ad esempio, di Arbitrum o degli altri layer 2 che abbiamo studiato di Ethereum, ma a differenza del mondo Ethereum dove il layer 2 è una chain a parte che ha i ponti, ha tutte queste, chiamiamole, inefficienze o complicazioni, in questo caso abbiamo la natività del layer 1 e layer 2, entrambi, layer 1 e layer 2, o meglio, entrambi integrati, ripeto, nativamente sulla chain Algorand. Le operazioni più onerose vengono quindi fatte, eseguite, on-chain, elaborate, scusate, off-chain, non on-chain, e on-chain invece viene portato il loro risultato finale più una sorta di certificazione, immaginatevi. Quindi io porto sul layer 2 magari una serie di operazioni da eseguire come le funzioni complesse di uno smart contract specifico. Il layer 2 le esegue off-chain, fa tutte le operazioni necessarie e avrà un risultato finale. Quel risultato finale viene riportato sul layer 1 insieme a una sorta di certificazione di hash che dice è stato eseguito di fatto in maniera corretta. Questo garantisce un tempo di transazione minore di 5 secondi che, ripeto, è il block time e le conferme tra l'altro sono istantanee, basta un blocco e abbiamo la conferma su Algorand, e le gas fee sono minore di un centesimo di dollaro, molto minori tra l'altro, addirittura avevo visto in questo periodo di un ordine di grandezza minori. Quindi lo scopo di Algorand era proprio quello di andare a colmare il famoso trilemma scalabilità, sicurezza e decentralizzazione. Questo è il metodo che propone. Un'altra feature molto interessante di Algorand è la possibilità di creare le cosiddette co-chain. Queste co-chain, come dice la parola stessa, sono delle chain secondarie dotate di caratteristiche proprie che si può decidere in fase di progettazione e sviluppo. Vi faccio un esempio, sono un'azienda, un'istituzione, voglio creare il mio sistema, non lo so, di pagamento, di tokenizzazione, di qualcosa interno, privato, posso creare una co-chain su Algorand approfittando quindi della sua struttura e architettura ma con delle customizzazioni che voglio io e soprattutto ristrette a me, un qualcosa fatto solo per me. A differenza delle altre chain private su altri magari network, in questo caso le co-chain parlano con le altre co-chain e anche con la chain principale, quindi sono interoperabili di fatto con tutto il mondo Algorand. Gli asset che ci sono dentro si possono portare fuori, si possono scambiare altrove e quant'altro, ovviamente compatibilmente con le regole della co-chain in questione perché dipende dal livello di privatizzazione diciamo che viene implementato. Comunque c'è un alto livello di interoperabilità. Parlando di smart contract che sono un po' il, come dire, gli use case principali ora come ora, soprattutto in questo periodo storico dove si parla soprattutto di DeFi, NFT, DEP e quant'altro. A che punto siamo con Algorand? Allora, questo è stato un po' ciò che ha rallentato, se vogliamo, lo sviluppo perché lo ha reso più elitario. Adesso vi spiego il perché. Gli smart contract su Algorand sono attualmente scritti in un linguaggio che si chiama TEAL che ha la particolarità di essere non Turing Complete quindi diciamo è un po' limitato sulle operazioni che può permettere di eseguire gli smart contract è più complicato quindi anche da un punto di vista di auditing ci vogliono delle aziende che conoscono appunto il linguaggio e è limitante però DEP Pro anzi è più sicuro perché col fatto che non è Turing Complete che è più complicato da programmare è anche più complicato da exploitare DEP Pro ecco e quindi al momento abbiamo questo trade off quelle poche applicazioni DeFi che vedremo tra poco attualmente in sviluppo in linguaggio TEAL saranno più sicure però ci hanno messo più tempo per l'appunto per essere sviluppate è in progetto un update tuttavia che porterà più linguaggi allo scopo di avere proprio una maggiore adozione nel mondo DeFi a tal proposito guardate se volete poi vi condivido anche l'articolo questo è preso dal blog di Algorand qua spiega bene quello che è il loro scopo il loro obiettivo nell'andare a evolvere a sviluppare i linguaggi di programmazione su Algorand stesso vogliono supportare più linguaggi di programmazione che verranno tutti poi cioè i vari script verranno compilati e dati in pasto alla Algorand Virtual Machine che avrà proprio l'obiettivo di andare a eseguire quelle operazioni scritte nei vari linguaggi di programmazione è un procedimento simile a ciò che avviene su Ethereum con l'Ethereum Virtual Machine ma in questo caso con più linguaggi non solo con Solidity come in Ethereum qua sotto ci sono alcuni esempi di linguaggi che vogliono andare a implementare ma teoricamente non sono limitati a questi e l'obiettivo è anche rendere i linguaggi di programmazione degli smart contract su Algorand stesso Turing Complete in questo modo è possibile vedete lo dice anche qua sotto sarà possibile di eseguire tutte quelle operazioni che è possibile fare su altre chain come appunto Ethereum quindi rendendole potenzialmente anche interoperabili con Algorand non sarà così facile come portarle da Ethereum a un'altra chain sempre VM compatibile perché il linguaggio è lo stesso ma comunque sarà teoricamente possibile ripeto adottarle su quest'altra chain con tutti i suoi vantaggi soprattutto lato scalabilità e bassi costi Tokenomics allora qui è stata fatta molta polemica sulle tokenomics di Algorand qualcuno dice che ha spazzatura qualcuno dice che è valida per il lungo termine vi spiego come funziona ci sono innanzitutto 10 miliardi di massima supply di Algo del token Algo buona parte di questa supply il 25% è stata allocata ai venture capital o i cosiddetti early backer ovvero coloro che hanno fatto nodi grossi in passato i primi investitori insomma coloro che per primi hanno appoggiato e hanno investito di fatto in Algorand questa supply questi token allocati a loro sono bloccati c'è il classico vesting e vengono rilasciati nel tempo ok quindi un po' alla volta fino al 2030 che sarà l'anno in cui verranno rilasciati gli ultimi token e si raggiungerà i 10 miliardi di supply c'è un rilascio graduale in particolare c'è una procedura chiamata accelerated vesting che prevede un rilascio accelerato di questi token bloccati vi spiego meglio cosa significa allora immaginatevi che voi avete investito in algo all'inizio siete un venture capital che ha detto bene voglio investire in algo vi vengono allocati 10 milioni di token dico un numero a caso dicendo bene ve ne rilasciamo il 10% l'anno fino al 2030 sempre numeri a caso bene che vuol dire che ogni anno ogni tot vengono rilasciati nel mercato nuove coin quindi c'è più offerta e se la domanda comunque non tiene botta oppure decresce il prezzo diminuisce perché l'offerta genera una potenziale pressione in vendita l'accelerated vesting prevede che quando il prezzo sale molto quindi quando vedono che la domanda va a sopraffare l'offerta in particolare il parametro usato è che la media mobile esponenziale a 30 giorni supera la media mobile esponenziale a 30 giorni dei massimi storici degli ultimi massimi storici dei 30 giorni intendo ok in media mobile vengono rilasciati più token del normale quindi c'è un'accelerazione nello sblocco dei token questo cosa causa che di fatto quando il prezzo sale viene inondata di più di liquidità le tasche degli early adopter quindi loro possono vendere a un prezzo più alto andando quindi a sopprimere temporaneamente il prezzo allora qui c'è la polemica perché c'è chi dice che è studiata per tenere il prezzo basso quindi non può aumentare più di tanto perché se aumenta c'è questo accelerated vesting che fa sì che chi riceve questo sblocco può dampare di più andando quindi a riportare in basso il prezzo e c'è chi invece dice che è una cosa sensata perché è più orientata a lungo termine è più orientata innanzitutto a una clientela diversa cioè non allo speculatore retail che quindi perde interesse visto che il prezzo è studiato la tokenomics è studiata per tenere il prezzo un po' soppresso è meno allettato dal voler fare il cioè voler puntare al 100 per per dire nonostante comunque ha avuto buone performance il prezzo al di là di tutto perché poi l'accelerated vesting non vuol dire un dump assicurato i token vengono sbloccati ma non è detto che poi chi ce li ha li dumpa tutti è solo una potenziale offerta in più e quindi questa è un po' la polemica che è stata fatta a riguardo chi dice male perché c'è una pressione in vendita mi passa la voglia di investirci perché tanto non pomperà mai bene chi dice manteniamo il prezzo basso teniamo degli investitori molto più orientati a lungo termine tagliamo fuori i moon boy e siamo tutti più contenti questo è il discorso il 25% dei 10 miliardi di coin sono allocate ai venture capital e lo staking attenzione ecco c'è una ricompensa di staking e uno dice beh ma allora in sostanza ogni nuovo blocco si creano coin e lo staker le riceve in realtà no non funziona così perché non viene creato valore dallo staking vengono sì validati blocchi e quant'altro ma le fee di transazione vanno alla algorand foundation quindi la ricompensa di staking è la foundation che va a dare una parte dei loro token ai vari staker tutto lì è pensato di il modello potrebbe cambiare perché in teoria in ottobre poi non so se sono cambiate le tempistiche dovrebbe venire creata una governance questa governance poi sapete ha potere di voto di introdurre nuove regole e quant'altro ovviamente i venture capital e gli early backer con un peso abbastanza importante sulle coin detenute dipende poi da quante ne hanno vendute però avranno un peso altrettanto notevole sulle decisioni della governance cosa che comunque è comune abbastanza a tutte le coin ci sono sempre delle balene dietro ecco quindi questa è un po' la logica il come funziona Algorand spero di essere stato chiaro è molto complesso ma molto interessante al momento come vi dicevo il panorama DeFi su Algorand è limitato quasi unicamente a questo Yieldly che è la prima piattaforma DeFi che in realtà possiede un gioco a premi è una sorta di lotteria con anche NFT e lo staking del loro token nulla di particolarmente entusiasmante ma come vi dicevo è stato lanciato questo fondo chiamato Viridis di 300 milioni di dollari finalizzato proprio ad andare a costruire l'infrastruttura necessaria a sviluppare sulla chain Algorand delle piattaforme DeFi e io ho guardato un po' quelle che ci sono usciranno soprattutto tra questi ultimi mesi del 2020 e l'inizio del 2021 in particolare interessante Folks Finance che sarà la piattaforma di lending il money market di riferimento sarà anche questa è scritta in Teal in sostanza è una sorta di lave di turno per capirci con la possibilità di andare a dare liquidità a fare land e borrow collateralizzare e quant'altro sono un po' i pilastri di base di qualsiasi ecosistema DeFi una volta che usciranno le prime piattaforme di lending poi ho visto che ci sono alcuni DEX ci sono un po' di cose in arrivo io mi aspetto che arriverà anche tutta l'infrastruttura collaterale come i ponti per portare gli asset su Algorand perché comunque adesso un'altra cosa che manca sono tutti gli asset tokenizzati su Algorand che vi ricorda una chain a parte quindi è un po' isolata questo è il suo contro attuale se questi 300 milioni e tutta l'evoluzione del mondo DeFi porteranno a una maggiore integrazione di Algorand con tutto il resto del mondo e magari perché no qualche protocollo di comunicazione tra lei e le altre chain allora sicuramente avrà una grande accelerazione insomma i presupposti mi sembra che ci siano stiamo a vedere ora tra fine 2020 e inizio 2021 che ci saranno sono i periodi decisivi ecco quindi stiamo a vedere che cosa accade proprio in questi mesi e poi capiremo meglio quale può essere la sua direzione futura io vi chiedo ora cosa ne pensate voi di Algorand vi ispira vi interessa ci investireste io come sempre credo che farmerò non appena sarà possibile sapete come la penso i nuovi ecosistemi di solito hanno dei bei programmi di incentivo e fanno venire voglia di provarli quindi count me in come si suol dire non appena sarà possibile vi faccio un carissimo saluto e alla prossima